Ciao, in questo video vorrei presentarti il primo corso della Besprato Academy, un corso online per imparare a seminare un prato a regola d'arte. Mi chiamo Fabio Polo, sono l'autore di A filo d'erba, il libro sul tappeto erboso più venduto in Italia, e sono anche l'ideatore di Besprato, oggi il sito internet punto di riferimento per gli amanti del prato. La Besprato Academy è una scuola di formazione di eccellenza sul prato e sul giardino, e il corso La Semina di un Prato affronta tutti gli aspetti e le strategie per seminare in maniera impeccabile un manto erboso di tipo residenziale. L'obiettivo finale è renderti capace da solo e senza l'aiuto di un giardiniere professionista di creare rapidamente e con successo un bel manto erboso, fitto, resistente. Scoprirai i segreti per seminare un prato che diventa esteticamente subito uniforme, denso, compatto, dalla conoscenza del terreno alla scelta delle sementi, dalla preparazione del letto di semina alle tecniche per rendere più rapida la germinazione. Il corso affronta anche la modalità corretta di rigarlo e tutti gli errori da evitare. La Semina di un Prato è un corso adatto a tutti, non servono nozioni o abilità particolari, ha un linguaggio semplice ma rigoroso. 12 moduli per un totale di oltre due ore e mezza di video ad alta risoluzione corredati da oltre 100 slide. Acquistando il corso avrai accesso a vita a tutti gli aggiornamenti futuri e riceverai in omaggio un ebook contenente la guida pratica all'irrigazione del prato e uno sconto del 15% per l'acquisto di tutti i libri dell'Academy. Se vuoi avere maggiori informazioni sui contenuti del corso vai su www.vesprattoacademy.com oppure clicca nel link che troverai nella descrizione di questo video. A presto! Grazie a tutti!